L'interruttore differenziale, noto anche come differenziale o salvavita, è un dispositivo fondamentale per la protezione delle persone e degli impianti elettrici contro i pericoli di scariche elettriche e guasti. L'interruttore differenziale si basa sul principio della prima legge di Kirchhoff e interviene quando la soma dell'algebrica delle correnti entranti e uscenti dal dispositivo supera un determinato valore di soglia. Il funzionamento dell'interruttore differenziale si basa sulla rilevazione delle correnti di dispersione che possono indicare la presenza di una dispersione di corrente da parte del circuito verso una via indesiderata come il corpo umano o la terra. Una delle caratteristiche distintive dell'interruttore differenziale è la sua sensibilità alle correnti di dispersione che gli consente di rilevare anche piccole variazioni di corrente che potrebbero indicare un pericolo imminente. Inoltre, all'aumentare del valore della corrente di dispersione, il tempo di intervento dell'interruttore differenziale diminuisce, garantendo una risposta rapida e temporale. Grazie alla sua capacità di rilevare o interrompere rapidamente il flusso di corrente, in presenza di guasti o pericoli, l'interruttore differenziale svolge un ruolo cruciale nella protezione delle persone e degli impianti elettrici, riducendo il rischio di incidenti e danni causati da correnti di dispersione non controllate.